La comunità montana Vallo di Diano continua a lavorare per lo sviluppo sostenibile del territorio. Con i fondi POR 2000-2006 ha realizzato prodotti e servizi permanenti. Il marchio d'area del Vallo di Diano, la rete ambientale con la partecipazione di tutte le associazioni ambientali, la rete degli operatori turistici per coordinare e promuovere le attività del Vallo. La programmazione comunitaria 2007-2013 rappresenta una nuova sfida. Vallo di Diano. Lavoriamo uniti. Per il futuro della nostra Terra.